vedete questo uomo accanto a me è uno è uno si si siete non ti spaventare un vero uomo come ti posso definire uno dei più grandi artisti della storia della comicità cala cala anche meno uno dei tanti artisti un grande barzellettiere posso definirti così non solo quello forse magari qualche cos'altro vabbè allora ti definisco un tuttologo dell'arte della risata uno che si diverte a ridere a scherzare a giocare vabbè gianni giannini eccolo qui l'importante la vita è ridere è una cosa molto importante fondamentale fondamentale perché te sei sgui stasera perché fai parte del cast del film ridere fino a volare come si dice grazie al cast è un artista mi hanno chiamato a fare la parte io sono il fidanzato della mamma di gelli si sono un uno chanson e molto elegante invece stasera sono in veste casalinga abbastanza un lobby dei colombi viaggiatori mando il messaggio a una fidanzata con il colombo viaggiatore e cerco di aiutare questi ragazzi alla loro carriera è che mamma mia non fanno ridere nessuno allora purtroppo diventa una tragedia ma c'è del bello dentro il film